eccoci qui cari amici buonasera buonasera allora vediamo adesso se funziona tutto questa sera non sono da sola e neanche maria praticamente da sola facciamo insieme alla diretta e spero che vi piacerà tantissimo maria caterina ma come stai buonasera buonasera a tutti buonasera slavi che emozione si è bellissimo fare una diretta con te perché sei molto molto amata dalle persone da bridges che ti seguono tantissimo sono le persone dolcissima io ti conosco in diverse occasioni che prima cercavo sempre di seguirti su questo canale perché veramente dice delle storie racconti delle storie vai delle cose straordinarie veramente sei bravissima e sono molto onorata che tu io lo sono sei qui con me per la prima volta che faccio la diretta facendo l'intervista io ho scelto te perché hai detto già che siamo in buon rapporto allora così ci divertiamo anche davvero guarda ti ringrazio perché quando mi hai chiesto di fare questa diretta con te ho pensato ma proprio io caspita perché è stata un'emozione fortissima grazie anche perché magari molte persone non sanno ma tu sei veramente bravissima non soltanto come life coach non soltanto come facilitatrice ma sei anche quasi medium diciamo hai fatto percorso medianico con le guide e queste molte persone non lo sanno e credo io la prima che ci lavora ancora tanto sì ma sai che molte saranno curiosi proprio di sapere come poi si lavora con la medianità come si sposa poi psicologia e parapsicologia di questo ne parleremo ecco grazie per avermelo detto ora che non posso più lavorare saluto tutti wow quante siete grazie grazie di essere qui con noi caspita siamo cominciati da un minuto e siamo già in 88 fantastico fantastico wow grazie 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 noi purtroppo non possiamo vedere tutti i nomi però se farete delle domande vi prego per favore scrivete anche il vostro nome perché su questo piatto forma di be life purtroppo funziona proprio in questa modalità che a volte non riusciamo a leggere i nomi d'accordo io spero che sarete molto attivi perché parleremo con Maria Caterina soprattutto del suo libro perché fra poco dovrebbe uscire e noi siamo in anteprima nessuno lo sa ma io lo so davvero ho avuto questo onore di leggerlo e allora ti farò tantissime domande perché il tema di oggi com'è che sarà Maria io mi perdono sì sì è un tema molto forte che hai scelto anche come il nome del tuo libro si tratta anche della tua storia personale di tutto quello che hai vissuto è veramente tanto di capello in modo come spieghi in modo molto molto semplice ma profondo di tutto ciò che è un argomento che non tutte riescono capire in che modo possiamo perdonarci guarda io ti ringrazio per avermi concesso di fartelo leggere e sei stata preziosissima tu lo sai perché io come scrittrice sono molto acerba e quindi mi ha davvero mi hai aiutato tantissimo a capire come potevo migliorarlo per dare un messaggio alle persone perché questo è il mio intento accompagnare le persone in un percorso di perdono verso se stessi non è un manuale il mio perché non ha dei passi ma un recupero proprio della coscienza e di quella parte compassionevole di noi che ci insegna a guardarci con tenerezza ma secondo te tra l'altro vedo che scrivono che tutte vogliono leggere il libro wow Francesca ciao ragazzi grazie che mi scrivete i vostri nomi grazie mille grazie qualcuno mi scrive no devo cambiare il titolo del mio libro anche io dovevo intitolarsi così devo trovare un titolo alternativo e sì non so chi si sta scrivendo ma il titolo è già occupato perciò grazie no no bel titolo comunque brava bravo non so però non lo so magari non hai copyright vero Maria Caterina magari guarda mi sto affidando anche lì proprio perché sono inesperta mi sto affidando qualcuno che ha una casa editrice mi sta aiutando non so non è una domanda che so rispondere bello perciò chi ha scritto questo libro o qualcun altro quello che mi ha scritto e magari potrà prendere un po delle idee anche di ciò che salterà fuori stasera fateci delle domande vi raccomando a lei a lei soprattutto non a me a lei bene il titolo del libro è io mi perdono perché qualcuno sta scrivendo com'è il titolo io mi perdono ma mi puoi spiegare per favore la differenza tra perdonare e scusarsi io mi perdono secondo te qual è la differenza che bella domanda io mi scuso io mi scuso secondo la mia percezione è un porsi in una posizione di difetto quindi io mi scuso quando riconosco di aver sbagliato qualcosa verso i tuoi confronti e quindi riconosco questa cosa e in qualche modo mi pongo proprio in una posizione energeticamente non inferiore ma inferiore rispetto alla situazione che sto vivendo poi magari cerco di spiegare meglio cosa intendo se non è chiaro mentre io mi perdono o io perdono o chiedo perdono insomma è un'accoglienza in cui io non mi pongo al di sotto di te mentre ti chiedo scusa in qualche modo ma accolgo anche una certa inconsapevolezza nel fare delle azioni quindi quando mi scuso io ho fatto una cosa per esempio con una certa consapevolezza con una certa intenzione e posso aver creato qualcosa inconsapevolmente di dannoso per te o per me e questo per me sono le scuse quindi ho fatto una cosa scegliendola decidendola e ti chiedo scusa perché effettivamente nella responsabilità mi rendo conto di aver creato un danno ma quando perdono o chiedo perdono io accolgo un'inconsapevolezza quindi è una cosa differente proprio cioè mi pongo con rispetto non solo per te ma anche per me e accolgo che in quel momento non ero cosciente consapevole di quello che è stato fatto quindi per me è una cosa molto più sottile il perdono bello bello grazie perché anche io sono di quel parere visto che stiamo della cultura diversa parliamo delle lingue diverse tu parlo italiano io parlo russo ok e certamente abbiamo caratteri diversi abbiamo spiritualità magari diversa cattolico sei cattolica vero? sì sono ortodossa perciò chissà della cultura delle nostre caratteristiche dell'educazione noi possiamo capire alcuni argomenti magari da due punti di vista differenti per me questa è un confrontarsi molto bello perciò potrebbe essere che magari daremo anche due opinioni diverse su alcuni argomenti per me questo veramente è un regalo di sentire è un regalo di sentire e poi ti dirò anche la mia ok certo anche grazie è interessante senti vuol dire che il perdono secondo te è un atto puramente spirituale oppure anche psicologico? allora guarda secondo me non può essere solo psicologico perché non è una comprensione psicologica mentale del danno o dell'azione dell'altro significa cambiare livello entrare in uno stato empatico per perdonare io devo in qualche modo perdere la condizione mentale della dualità giusto o sbagliato io avrei fatto questo avrei fatto l'altro io vado a comprendere nel perdono che io nelle stesse condizioni dell'altro che non vuol dire solo in quella situazione ma con gli stessi genitori la stessa storia la stessa interpretazione della vita della realtà le stesse ferite gli stessi fratelli sorelle amici condizione sociale io avrei fatto lo stesso nel perdono c'è un'accoglienza un'empatia che secondo me richiede un cambio di livello deve essere per forza un livello più spirituale dove io accetto che ho pagato un prezzo tra virgolette se tu mi hai fatto del male in quel prezzo che io favo se tu accogli te stessa capisci cos'è successo comprendi a un livello più spirituale è come se entrambi fossimo avessimo avuto l'opportunità di evolvere quindi nel perdono c'è l'evoluzione è come pagare il prezzo sì pagare il prezzo per evolvere in qualche modo anche nel senso del libro quando io dico mi perdono è perché io so che quello che mi ha portato fin qui ha permesso a me di evolvere e so che il male che mi sono fatta è stato uno strumento e allora io lo accolgo anche se può essere doloroso capisco bello grazie c'è qualcuno che sente l'audio molto disturbato prima tu usavi i cuffie proviamo magari cambierà la scusate io non me ne rendo conto sono molto concentrata ok proviamo a vedere se è meglio così se non mi sposto ok meglio 1 2 3 prova sì sempre meglio adesso chiediamo poi ai nostri spettatori di darci qualche feedback intanto ti leggo una domanda da Giancarlo il perdono con noi stessi è un modo di crescere nella nostra consapevolezza e ci avvicina alla luce che ne pensi Caterina? ci avvicina alla nostra luce quindi grazie Giancarlo il perdono con noi stessi è un modo di crescere nella nostra consapevolezza e ci avvicina alla luce dico che si che ci avvicina alla nostra luce è un modo di crescere perché in qualche modo accetta attraverso il perdono accettiamo di essere qui per crescere per imparare e sappiamo che tutte le nostre ferite le nostre caratteristiche della nostra personalità sono strumenti che l'anima ha scelto proprio affinché vengano superati affrontati guardati con amore amati e trasformati integrati insieme al resto e quindi ci avvicina alla nostra luce e quindi alla luce di cui siamo fatti alla fonte di luce da cui proveniamo proprio perché avviene questa integrazione e uscire dalla dualità significa appropriarsi della propria luce la nostra cara Nicoletta Aprile dice il perdono dicono si è divino proprio per la difficoltà si sono d'accordo richiede con quale infatti cerchiamo di perdonarci non è una cosa semplice perché secondo te per che cose le persone vogliono perdonarsi quali sono i motivi principali? allora guarda nel libro ovviamente tratto ne tratto alcuni tratto tanti in realtà i principali quelli che ho affrontato io nella mia vita personale e quelli che ho affrontato con le persone con le quali lavoro quotidianamente io ho questo grande dono di lavorare con le persone che mi fanno questo dono di consegnarmi il loro cuore finché io me ne prenda cura insieme a loro quindi ho trattato diverse problematiche legate al perdonarsi soprattutto per quel che riguarda il vivere una vita intera incontrando sempre le stesse persone che ci trattano sempre nella stessa maniera quindi da incapaci piuttosto che come persone senza valore persone che hanno idee distorte oppure pazze perché hanno dei doni magari e non si ritrovano con le persone quindi continuano a canirsi a voler essere accettate e riconosciute dalle persone che frequentano e non riescono a voltare lo sguardo e guardare il mondo meraviglioso fuori che è più affine a loro e quindi la cosa diciamo con cui lottiamo è quella di voler essere amati e compresi ad ogni costo anche a costo di nasconderci e di negare a noi stessi la parte diversa, unica che portiamo dentro infatti parlando dei valori perché parli tanto nel tuo libro dell'importanza dei valori che sono il riferimento delle nostre azioni e quindi della nostra coerenza come si costruisce secondo te un sistema di valori che possa guidare la nostra vita? Sì io parlo molto di valore quindi di persone che si attribuiscono valore attraverso la stima dell'altro e una parte importante è proprio questa lo smettere di credere che siano gli altri a essere il nostro metro di valore e cominciare a vedere il nostro valore proprio in termini di energia quindi di energia che si sprigiona attraverso il vivere i valori come dici tu che guidano le nostre scelte si costruisce secondo me sulla base di ciò che ci viene naturale di quelle spinte ad amare, ad aiutare, ad essere generosi per esempio a condividere quindi tutto ciò che ci viene naturale e ci riempie di gioia mentre lo facciamo significa che quello è qualcosa di essenziale per noi è essenziale per noi esprimerlo, condividerlo abbracciare gli altri con la nostra energia e quindi il sistema di valori si costruisce nel momento in cui ci osserviamo fare nella nostra vita delle cose che ci rendono felici, che ci fanno stare bene e soprattutto quando sentiamo la mancanza di qualcosa e pensiamo che siano gli altri a dovercela dare faccio l'esempio, l'amore, non ho nessuno che mi abbraccia non ho nessuno che mi ascolta bene, significa che quello è un tuo valore vivilo per prima quindi comincia tu a guardare negli occhi un bambino a sorridere alle persone quando lo incontri a dare questa cosa perché è essenziale per te, la devi vivere e più tu la vivi e più entra in risonanza con ciò che deve arrivarti attraverso quello Sì, è una cosa molto interessante perché parlando del perdono è un dono, vuol dire donare, perdono ok? Ma quando parliamo della vita quotidiana così come di solito anche quando cristiani dicono sempre deve dare, deve dare allora questo perdono secondo te viene da, non lo so dalla chiesa come la parola visto che dono e devi donare o comunque è un valore umano che esseri umani hanno inventato diciamo quella parola da quanto è secondo te? Allora io credo che gli esseri umani l'abbiano usata questa cosa a volte è abusata ma è una qualità dell'anima è una qualità che noi abbiamo innata per quello che è tanto difficile perché ci costringe a diventare di nuovo semplici essenziali a spogliarci delle paure la difficoltà che abbiamo a perdonare spesso è legata alla paura alla paura di essere feriti di nuovo alla paura di ricascarci alla paura di, no? Allora quando parliamo di cambiare livello ritornare nella semplicità in ciò che ci viene naturale significa recuperare le qualità dell'anima e una di queste è un modo di vivere il perdono non è una cosa da imparare la sappiamo già usare dobbiamo solo aprire il cuore Donare qualcosa di importante sia alle altre però anche a se stesso assolutamente il perdono faccio un gesto verso se stesso perché dono qualcosa anche a me è molto importante Sì e siamo liberi Perfetto vedi qua qualcuno scrive sì è vero il perdono è come dire all'altro il mio amore è più grande Ok bella opinione qualcuno chiede è lo stesso concetto di Oponopono? Allora del perdono del io scusa sì di quello scusa sì secondo me si avvicina perché anche nell'Oponopono per quel che io ho fatto semplicemente ho fatto un corso quindi sicuramente ci saranno persone più esperte di me in questo però in quello scusami c'è comunque una una presa di coscienza che ci facciamo del male attraverso attraverso l'esperienza attraverso l'inconsapevolezza quindi sì si avvicina secondo me potrebbe essere secondo te secondo te è giusto recitare così come mantra ti perdono ti amo solo come mantra o ci vuole comunque un approfondimento nel comprendere ciò che stai pronunciando assolutamente io credo nell'intento il mantra senza intento è vuoto sono vibrazioni va bene però io l'ho detto anche in qualche diretta io posso dire dei mantra ma se poi emotivamente non sono cosciente non mando l'intento giusto non ha tanto potere quel suono che emetto quindi io credo che a volte anche l'intento senza parole sia più potente secondo me si sta si sta trattando anche di un di un modo di autoprogrammazione che comunque potrebbe funzionare potrebbe funzionare ti perdono ti amo certo poi capirai anche il valore però ho visto le persone purtroppo recitando questo tipo di mantra anche per più volte però dicono non funziona chissà perché chissà perché per esempio mi hai fatto venire in mente anche le affermazioni no divise che so funzionano assolutamente no e come dici tu è una riprogrammazione cellulare no e quindi assolutamente può funzionare secondo me il fatto è proprio levare la barriera della mente perché se io dico a me stessa sono bella la mia mente mi dice ma cosa dici ok allora nel momento in cui io trovo la modalità di dirmi qualcosa e di crederci mentre lo dico perché penso alle parti di me che mi piacciono per esempio allora quando dico sono bella e mi concentro su quelle parti è comunque integro questa cosa riesce a entrare dentro di me ma nel momento in cui recito e mi accorgo di una barriera della mente finché non ci lavoro non ci vado più in profondità secondo me non funziona e per questo è importante la vigilanza osservarsi allora leggiamo cosa hanno scritto i nostri ospiti il perdono che sono stessi è un atto di grande grande misericordia poi il perdono è uno stato di consapevolezza quindi una pace nell'anima e riunire ed abbracciare la parte buia di noi e capire che sbagliare è il prezzo che paghiamo per evolvere sbagliare è lo strumento dell'evoluzione e il perdono quindi è sempre psicologico e animico quello tornare parlando se perdono spirituale oppure psicologico il perdono è un processo o un evento è un processo per me è stato un processo non un evento sì è un processo che funziona per tutti c'è un metodo per tutti uguale no da che ne so io per ognuno è differente è diverso proprio il processo come posso dire stavo pensando a qualcosa poi mi è sfuggito mentre parlavo mi tornerà mi tornerà comunque no è un processo è un processo che per ognuno richiede il suo tempo anche non solo i suoi passi e poi una volta che accade diventa come dicevo prima un modo di vivere un modo di guardare il mondo se stessi e giustamente come leggevi prima l'intervento di qualcuno è un modo per evolvere a imparare ad evolvere sì anche questo è una cosa interessante oltre la dualità come stato dell'essere non esiste colpa ma esperienza dove non c'è colpa non esiste neanche il perdono e a questo livello anche la spiritualità non è religione cattolica ortodossa o l'altro allora d'accordo vuol dire certamente se non c'è la colpa non c'è il perdone se non c'è il bene non c'è il male non riusciamo a comprendere ciò che è bene se noi non conosciamo che cos'è il male vero? allora per poter capire che cos'è il perdono bisogno combinare qualcosa nella vita per poter poi attraverso la consapevolezza capire se è stato nel giusto o no come dare le altre ok ok bene allora andiamo a dire ad una madre alla quale hanno ucciso un figlio di perdonare l'assassino credo sia molto diverso dal perdonare noi stessi perché magari non ci siamo amati coppolati ribellati eccetera è tosta come come affermazione infatti perdonare guarda anche a me è capitato perdonare qualcuno che mi ha fatto mi ha fatto male certo che non sto parlando di omicidio eccetera però c'erano delle situazioni come per esempio il dottore che ha fatto operazione a mio papà c'era o poteva essere un sbaglio io non posso essere certa sono soltanto delle alcuni momenti di riflessione però se è stato per esempio un sbaglio da parte del dottore e mio papà se n'è andato io starei più male questo tempo tenendo dentro il rancore il perdono per me è stato qualcosa così elaborato in modo onesto di poter infatti capire che tutto ciò che succede in ogni minimo momento da qualche parte deve succedere noi non facciamo i nostri sbagli tanto per farle perché c'è sempre una bella elaborazione tra mondo esterno nostro destino e il nostro inconscio avere sensi di colpa per esempio per qualcosa che abbiamo fatto nel passato tenere dentro queste offese eccetera ma soprattutto sensi di colpa per quello che abbiamo fatto in quel preciso giorno in quel preciso momento avendo avuto solo quelle esperienze della vita solo quella vuol dire che in quel momento non potevamo fare altrimenti non c'era altra scelta anche se c'erano dei sbagli c'è sempre un qualche disegno divino per noi per poter portarci verso quel sbaglio per far vedere un'esperienza e per questo secondo me anche la persona parlando del dottore se ha fatto il suo sbaglio si è già punito e la punizione più difficile è quella se magari lui per tanto tempo ha portato quel senso di colpa dentro di sé smettendo di vivere completamente nella sua libertà si è imprigionato da solo perciò è inutile ancora punirlo ancora di più io l'ho perdonato perché poverino stava meglio peggio di me capisci o meno io così hai detto due cose estremamente interessanti intanto l'onestà cioè quando si avvia un processo di perdono bisogna essere estremamente onesti con se stessi anche ammettendo sono arrabbiata sono furibonda vorrei che morisse insomma con onestà perché è un processo nel quale le emozioni vanno viste vanno comunque espresse e quindi è importantissima questa fase del perdono la seconda la seconda cosa è che è vero che il nostro universo ci porta sempre a equilibrare le energie e magari non abbiamo tutte le risposte in questa vita in questo preciso momento di tutto ciò che accade dobbiamo tener conto che la nostra anima è più vecchia di noi e che ha una storia da equilibrare un'energia da equilibrare e allora magari in questa vita certe cose ci accadono non giuste in realtà equilibrano perfettamente ciò che è accaduto in altre vite qualcuno ha scritto io perdono ma non dimentico giusto giusto perdonare non significa dimenticare o giustificare o sì o dimenticare assolutamente significa fare un dono di ciò che è successo farci il dono di ricordare ciò che è successo e di cosa ci ha insegnato vuol dire ricordare comunque avere nella mente però il nostro atteggiamento verso quella situazione cambierà come cambierà esatto come cambierà infatti non è che possiamo cancellare la memoria la cosa però dipende se non dimentichi con rancore e vendetta vuol dire che non era perdono allora è inutile dire io perdono se c'è ancora rancore esatto questa è un'altra cosa l'energia del perdono non è energia di vendetta qualcuno scrive quando riesci a perdonare qualcuno il primo regalo lo fai a te stessa perché ti liberi dalla rabbia e rancore ecco infatti il perdono è anche un ponte arcobaleno per il mondo sottile aiuta anche loro giusto sì perché parlando del mondo sottile quante persone che arrivano dal mondo dello spirito e chiedono perdono perdono ai propri cari a quali hanno fatto del male cioè è una cosa incredibile e soltanto lì dall'altra parte ci accorgiamo di questa cosa mi permetto di raccontarvi una piccolissima storia è una una favola legata proprio a questa questa cosa è morto un uomo ok morto un uomo si svele dall'altra parte vede il suo corpo ancora sul letto guarda se stesso è un'anima pura molto trasparente come l'anima e dice ok allora devo andare dall'altra parte però guardando se stesso ha visto dentro tante cose sia belle che brutte e dice se faccio apparire queste cose brutte magari non mi prendono in paradiso e allora cercherò di mettere un po' su soltanto le cose belle e quelle più brutte cerco di tenerle giù e allora sale davanti il creatore il creatore lo guarda e dice va bene passa e questo uomo dice ah che bello non hai visto che ho delle cose brutte le è nascoste bene bene e allora entra in paradiso dopo un po' si presenta davanti il creatore e dice senti creatore posso chiederti una cosa io ti ho mentito infatti ho portato un sacco di cose brutte nel mondo spirituale sto vivendo molto male perché mi sembra che tutti mi stanno guardando perché ho questa anima trasparente e mi sembra che tutti guardano e vedono tutte quelle cose brutte che ho dentro non è che me le puoi togliere per favore visto che sei così generosa e il creatore dice ho aspettato da te un'altra domanda un'altra richiesta però se vuoi proprio questo va bene e gli ho tolto tutte queste cose e dice vai di nuovo in paradiso e allora lui va in paradiso poi di nuovo torna dal creatore e dice senti creatore ma è una cosa strana tu mi hai tolto tutto questo peso ma io mi sento vuoto perché non sento dentro di me né male né bene non sento odio ma non sento neanche amore perché mi si è cancellato tutto non c'è più un paragone tra una cosa e l'altra perciò non riesco più a sentire nulla sono vuoto dentro e il creatore diceva bene te lo ridò e te lo ridò di nuovo lo ridò e lui dice no ma io non so se posso tornare in paradiso di nuovo tutto appesantito di queste cose non è che mi puoi perdonare perché veramente magari mi servirà proprio questo che mi perdoni il creatore dice guarda non è che proprio quella richiesta che ho aspettato da te ma se io vuoi va bene perché se tu non tolgo tutti i peccati ok vai bene vai bene paradiso e stai lì infatti non è che ho creato l'inferno l'inferno casomai porterai sempre dentro e l'hai sentito che infatti si stava manifestando l'ho voluto togliere vabbè vediamo e allora questo uomo va di nuovo nel paradiso sta lì per un determinato tempo e poi dopo di nuovo torna e dice senti io sto male nel tuo paradiso aiutami mi hai perdonato tutti i miei peccati mi hai aiutato però sento che non mi basta aiutami a perdonare te stesso e il creatore risponde senti io ho proprio aspettato questa richiesta ma proprio questa unica cosa che non posso mai fare né per te né per qualcun altro in questo che mi fa più impotente è una cosa che possiamo fare soltanto noi neanche il creatore riuscirà a far così che noi perdoniamo noi stessi è una cosa molto difficile è molto spirituale molto bene l'inferno dentro di noi esiste finché non lo facciamo non diventiamo capace di guarire Nicoletta Aprile scrive io penso che c'è un libero arbitrio sono stata vittima di un'ingiustizia di salute ma Caterina mi ha aiutato a devolvere il mio pensiero oh che bello ciao sì ieri durante una meditazione ho ricevuto il seguente messaggio la pace non ha ricordi è una condizione che si perpetra nel tempo che ne pensate? la pace non ha ricordi è una condizione che si perpetra nel tempo perpetra perpetra scritto nel tempo che ne pensate? la pace non ha ricordi è un po' magari ricevuto da una guida quelli un po' metaforici che bisogna un attimo comprendere ci pensiamo perché sì ok che bella fiaba grazie il perdono diventa una crescita interiore e come scalare una vetta difficile impegnativo ma fonte di soddisfazione quando si raggiunge il raggiungimento è come essere su una montiera e alleggerire i nostri pesi sia fisici che sottili che ne pensate Giancarlo? ognuno poi ha le sue sensazioni quando arriva in quel punto ogni persona lo descrive a modo suo in base anche al cammino che ha alle spalle al percorso che ha comunque se questa è la sensazione che ha avuto Giancarlo è giusta quella giusta per lui ok la pace ha ricordi ma questi non fanno più male è diverso sì è quello che si diceva prima che non è una pace che deriva dal dimenticare ma è proprio una pace che deriva dall'integrare poi molto interessante mamma mia sono bravissimi bravissimi allora io perdono ma lei non mi lascia in pace quindi devo sempre subire ah ok interessante ecco prego allora si poniamo che abbiamo compreso di essere di aver attirato nella nostra vita un'esperienza che ci ha fatto subire determinate determinate cose determinati atteggiamenti di qualcuno allora nel momento in cui io avvio questo processo e perdono me stessa per aver generato nella mia vita questo cambia il mio atteggiamento perché comincio di fronte agli stessi atteggiamenti dell'altro a essere io diversa a comportarmi io in modo differente sempre nel rispetto dell'altro ma anche di me stessa questa volta quindi cambiando questo atteggiamento sono due le cose che accadono l'altro smette oppure io arrivano nella mia vita nuove occasioni per cui io posso cambiare ambiente quando io ho seguito una diretta tu parlavi perché io le seguo tutte in cui parlavi dei conflitti nell'ambiente nello spirito ok quando noi accettiamo il posto dove siamo le persone con le quali lavoriamo per esempio siamo in contatto le accettiamo e cresciamo noi nonostante loro mentre siamo lì impariamo noi a darci la giusta considerazione il giusto rispetto a chiedere a dire a esprimere le nostre opinioni i nostri bisogni eccetera allora quando quindi questo conflitto viene in qualche modo sciolto da tutto ciò che è in mio potere allora solitamente la situazione cambia quindi o cambio lavoro per esempio cambio ambiente o la persona cambia perché le persone sono degli attori veramente che in base al ruolo che vestiamo noi vestono loro il loro ok domanda vuoi dire che dovrebbe essere uno stato innato dell'essere uno stato innato dell'essere secondo me è uno una caratteristica naturale quella del sì perché quando non ci quando non perdoniamo non ci perdoniamo oppure quando accadono cose perché viviamo in un mondo basato sulla dualità è lo strumento che abbiamo scelto la terra è è un ambiente favorevolissimo per sperimentare la dualità per sentirci separati quindi tutti separati tutti diversi e proprio per riconoscersi invece molto simili e che attraverso te ci sono parti di me che devo guardare e non c'è più separazione quindi sì secondo me è una l'altra domanda o affermazione credo che con vero perdono si trova la pace e quindi i ricordi emotivi negativi spariscono e si evolve ma ad oggi non sono in grado mi è stato detto che è l'unica strada per salvezza della mia anima è l'unica strada per la salvezza della mia anima sì con perdono si trova la pace e quindi i ricordi emotivi negativi spariscono e così si evolve ma la persona che ha scritto non è ancora in grado di farlo hai qualche consiglio certo allora mi viene da dire che non siamo in grado di farlo quando stiamo cercando di farlo in una maniera che non è per noi cioè vi faccio un esempio ho delle persone che senza fare nomi però mi dicono ho letto un libro c'erano delle cose da fare le ho fatte tutte non ha funzionato capita ok e capita certo che capita come capiterà col mio libro o con chiunque altro capita certo ma perché non stiamo secondo me non stiamo ascoltando quello che non stiamo ascoltando il nostro dolore non stiamo ascoltando i nostri pensieri non siamo abbastanza presenti con noi stessi per capire qual è la strada del perdono per noi perché c'è una strada per tutti ed è una strada che quando si sceglie di fare è naturale davvero viene naturale è difficile da spiegare quando dicevo prima è un'apertura del cuore avviene a un certo punto che dico basta basta vivere questo film basta basta credere a questo film a un certo punto c'è una scelta io ti dico sempre che per perdonare è necessaria la scelta la volontà di farlo quindi il consiglio per questa scusa scusa metto dai il tuo libro infatti perché adesso hai parlato del dolore avevo preso diverse parole chiavi perché avevi trattato tanti diversi stati emotivi quali sarebbe bello elaborare per poter poi trovare questo perdono anche verso se stesse elaborando quelle situazioni spiacevole perciò avevi parlato del dolore quello che hai nominato adesso poi c'erano le paure abbandono rifiuto sofferenza omigliazione tradimento comunque c'era un bel elenco delle parole di spiegare in un modo e poi che tipo di stato d'animo ciò che si percepisce durante questo stato d'animo e poi è andato anche qualche soluzione parlando adesso del dolore potresti dare magari qualche consiglio per favore come si può elaborare che stato d'animo è trasformarlo allora il dolore anche lì è qualcosa di diverso per un uomo ma è qualcosa che tutti conosciamo quindi a seconda come posso dire se il mio è un dolore che mi fa sentire di non aver senso di non aver senso di essere nel posto sbagliato di non essere compreso quindi a seconda del tipo di dolore io posso fare un lavoro dove riconosco questo come questa esperienza mi ha fatto emergere una parte di me di luce perché quando io per esempio mi sento inutile cerco in tutti i modi di impiegare la mia energia per rendere felici gli altri divento una persona estremamente generosa oppure ironica perché cerco di portare qualcosa di buono nella vita degli altri che mi dia un senso in qualche modo allora io esco dal dolore nel momento in cui riconosco ciò che ho sviluppato attraversando quel dolore e dopodiché scelgo scelgo di tenermi il buono ovviamente che ho imparato ma anche di sviluppare la caratteristica che mi sarebbe servita per non vivere quel dolore affrontare quel dolore da tuttima quindi comincio per esempio a sentirmi sostenuta guardo invece tutto l'aiuto che mi viene dato oppure le persone che si accorgono di me in cui io faccio la differenza nella loro vita guardo le persone che fanno la differenza nella mia mi accorgo che un posto ce l'ho che non è indifferente e comincio ad assaporare questo stato questo nuovo stato di coscienza finché non lo integro finché non diventa mio allora sì che posso perdonare perché quel perdono diventa un'integrazione tra ciò che ho imparato dal dolore e ciò che ho imparato invece nella gioia di esistere ma secondo te la persona che ha subito in un certo senso ingiustizie che percepisce il dolore la sofferenza offesa per poter portare il perdono nel proprio cuore vale la pena cercare di giustificare l'altro quello che l'ha offeso o che ha fatto qualche cosa di male in questo caso quando parlo di integrazione per esempio parlo proprio di uscire dalla dualità cioè quando io reputo qualcosa di ingiusto è perché io magari quella caratteristica di quella persona penso di non averla perché sono dalla parte opposta oppure mi manca quindi faccio un esempio di due colleghe una che lavora tantissimo fa anche il lavoro dell'altra e l'altra che invece fa i suoi orari se ne frega eccetera questa è vissuta come un'ingiustizia allora a volte io dico all'altra persona che è arrabbiata torna a casa arrabbiatissima dice questo poi il mio capo non lo capisce insomma fa una serie di cose dico sempre bene tu hai imparato con la tua storia a essere una persona totalmente differente da quella con cui tu lavori ma quella con cui tu lavori ti sta insegnando che tu trascuri l'amor proprio mentre lavori sei troppo proiettata verso gli altri quindi forse integrazione potrebbe essere è vero che è ingiusto che ci sia questo dislivello che tu permetti anche quindi comincia a fare ciò che è giusto chiedere a quando fai qualcosa di diverso a riconoscertelo per prima a essere orgogliosa di te non farlo per l'altro non farlo per te quindi il mio invito è sempre quello di apprendere il più possibile attraverso l'altro di se stessa cioè cosa ti insegna di te quali sono i tuoi valori le cose in cui credi quando vai a casa soddisfatta del lavoro non lo fai perché il capo ti ha detto brava non perché tu riconosci di aver fatto del tuo meglio di aver di aver avuto cura e rispetto per te stessa mentre lo facevi di aver liberato il tuo talento a livello espresso quindi è un allenamento ad amarsi anche attraverso poi l'integrazione con ciò che gli altri con i loro atteggiamenti sbagliati ci insegnano perché omeopaticamente avremmo bisogno per amarci di più di un po' di egoismo di un po' io a volte parlo di scala no? vi dico sempre dell'amor proprio è una vibrazione alta dell'egoismo eh già aspetta ma questo tema comunque del perdono molto spesso si incrocia con il giudizio perché perdono è spesso legato al giudizio giudicare se stesse giudicare le altre come ci si libera dal giudizio secondo te ok non ci si libera dal giudizio la nostra mente è fatta per giudicare giudica giudica interpreta in casella e si schiera lo fa quindi noi non dobbiamo essere liberi dal giudizio dobbiamo usarlo consapevolmente quindi vederlo e e e sentire che cosa ci sta dicendo se siamo troppo da una parte troppo dall'altra dobbiamo riuscire davvero a essere nell'equilibrio perché il giudizio è dualità è una per me è lo specchio della dualità interessante vediamo cosa scrivono gli altri alcuni alcuni miei familiari hanno lasciato aspetta alcuni miei familiari hanno lasciata sola nel momento della malattia di mia figlia ok io ho perdonato ma prova ancora dolore quando ci penso vuol dire che non ho perdonato davvero purtroppo sì secondo me scusa maestro sì sì penso così penso così anch'io mi dispiace perché capita tanto questo che ci feriamo a volte inconsapevolmente però soprattutto nelle relazioni in cui siamo intimi in cui siamo vicini capita di ferirci di di non dare all'altro ciò che gli serve e capita capita spesso è importante andare nell'intenzione perché magari la persona aveva una buona intenzione ma si è comportato diversamente da come ci si sarebbe aspettato e come noi avremmo fatto nella situazione opposta no? fossimo stati dall'altra parte purtroppo a volte guardiamo gli altri con il pensiero io non l'avrei fatto io avrei fatto diversamente e questo provoca tanta sofferenza quindi come consiglio mi viene da dire ci vale accettare che gli altri hanno delle priorità hanno dei valori hanno delle modalità per esprimere l'affetto l'amore la vicinanza che potrebbero non essere come vogliamo come ci aspettiamo e accettarlo veramente è il primo passo poi viene tutto il resto penso sempre alla legge cosmica causa effetto così quando subisco un torto o una ingiustizia lascio perdere cosa ne dici? bisogna lasciar perdere io ho come questa legge cosmica causa effetto entra dentro nel nostro tema del perdono perché alla fine a volte noi pensiamo che abbiamo subito un'ingiustizia e allora cerchiamo o perdonare quella persona o giudicare ok però se verso di noi è stata fatta un'azione sia buona che brutta in un certo senso è anche questa una conseguenza di qualcosa che abbiamo fatto precedentemente e allora pensiamo che cosa io ho fatto personalmente che verso di me è stato fatto un'azione o un gesto così particolare che io mi sono sentita ferita e che devo ancora imparare o perdonarmi o perdonare te però secondo me è sempre una conseguenza di tutto perciò legge della causa e effetto è proprio per noi perché ogni azione che facciamo è sempre una conseguenza di qualcosa che abbiamo vissuto precedentemente perciò e perdonare se stesse proprio per quello che abbiamo combinato abbiamo bisogno di perdonarsi di qualcosa che trascendiamo da più lontano rendo idea sì allora la storia è finita anche perché poi si va a parlare dell'altro genealogico ci sono talmente tante cose che potrebbero incastrarsi in questo discorso che non si finirebbe mai il suggerimento è sempre quello di affrontare ciò che accade nella maniera più costruttiva e positiva per noi possibile quindi lasciare perdere no vivere con consapevolezza ciò che accade sì quindi soprattutto se è ripetitivo lì per forza c'è invece qualcosa che devo guarire dentro di me se invece l'ingiustizia è sporadica potrebbe essere come dici tu semplicemente un effetto e allora io me ne prendo comunque cura cioè lo assumo con l'insegnamento che mi sta dando ora in qui e ora e questo cambia l'energia secondo me prendendo qualsiasi situazione si può sempre tagliarla a pezzettini per poter vedere dove la persona stessa che è in causa diciamo dove ha lasciato le sue impronte lungo tutta la storia di quello che era successo che ha portato a subire un'ingiustizia o essere offesa eccetera in ogni pezzettino della storia c'era sempre la sua presenza con qualche azione con qualche pensiero con qualche gesto con qualche parola cerchiamo di guardare anche dietro prima di giudicare gli altri perché molto spesso sono solo le risposte su quello che abbiamo combinato noi poi noi poi nel libro parlo tanto di specchio che ciò che accade è uno specchio di qualcosa che abbiamo dentro da vedere quindi a volte anche le ingiustizie che subiamo sono proprio per questo per sbatterci in faccia qualcosa che abbiamo fatto magari e che non abbiamo voluto vedere allora e che possiamo vedere adesso questa è un'opportunità ma tu stessa Maria Caterina ma sei riuscita veramente liberarsi da tutto da tutto ciò di cui sono consapevole fino ad oggi sì domani non lo so perché la crescita personale è infinita non si finisce mai quindi come ognuno di noi di voi mi concentro man mano sulle cose che arrivano su ciò che mi crea disequilibrio e mi concentro su ciò che arriva e le lavoro e vado avanti nella mia evoluzione non si finisce mai perciò hai fatto un grande lavoro su te stessa per poter ripulire il passato assolutamente ho iniziato presto però c'è sempre il futuro e magari potranno capitare ancora delle situazioni tu sei pronta come sei preparata se per caso ti arriva qualcosa con quale stato d'animo incontrerai magari una cosa che potrebbe in futuro ferirti allora futuro capita nel presente capita sempre non c'è bisogno di andare in futuro capita capita sempre di come dire di di sentire qualche emozione qualche pensiero poi ora sono spesso insomma cerco di essere molto presente molto vigile quindi se non posso farlo in quel momento lo faccio successivamente però in generale lo spirito con il quale affronto le cose oggi è davvero è lo spirito dell'alunno cioè voglio imparare ho scelto una vita mi sono scelta una vita facile come tante altre voglio imparare voglio continuare cioè io continuo a dire all'universo voglio evolvere costi quel che costi quindi lo prendo veramente accetto ciò che arriva elaboro le emozioni col l'insegnamento elabori subito al momento oppure aspetti e poi elabori già quando questa situazione è passata allora elaboro di solito quando vivo qualcosa io elaboro tutto ciò che posso all'interno della coscienza di quel momento lo elaboro poi non capisco il senso di ciò che accade magari non subito non sempre ma mi affido c'è molta fiducia cioè so che ciò che mi accade ha un senso e allora attengo di vedere il senso e poi elaboro anche quello vuol dire che non hai una certa protezione psicologica per il momento che sta accadendo adesso quando si nasce la situazione per esempio cominciamo a litigare adesso io e te ok cominciamo a litigare e magari in questo litigio nasce per esempio no nascono delle parole che possono offrire l'uno e l'altro ognuno per la propria opinione allora ci sono diverse vie o psicologicamente cominci a proteggerti da questa cosa trovando già una modalità di non permettere che accade ciò che è la conseguenza la seconda modalità rispondere comunque al momento e poi dopo in un secondo futuro elaborare la situazione che ormai è passata ok cosa cosa scegli allora ti dico di tutto ciò di cui sono diventata cosciente come dicevamo prima che ho elaborato e mi sono perdonata non entro più in queste dinamiche è ovvio ho imparato ho imparato a quando vedo la reazione nell'altro quando vedo la reazione dentro di me a fermare le cose a parlarne quando posso dare all'altro e a me il giusto rispetto quindi non entro nella dinamica per quello che ti dicevo non è possibile litigare con me perché non ci entro in tutto ciò che conosco fino ad oggi se domani io dovessi scoprire una ferita che non avevo non ho mai avuto e ce l'ho domani probabilmente all'inizio reagirò e con quella reazione col senno del polvo mi dirò aspetta ma se ho reagito forse c'è qualcosa da guarire dentro di me e vado a vederla quindi il senso è ho la responsabilità di guardare e di e di farne qualcosa di buono con quella reazione poi magari andrò anche a scusarmi se necessario se sarà il caso se sbaglierò ma prima di tutto mi prendo cura di quello che è stato ferito che ha riattivato la ferita mi prendo cura di quella roba che c'era già dentro di me se no non sarebbe scattato niente e l'altro può solo schiacciare dei bottoni che già fanno male dentro e quindi io se capiterà e reagirò mi prenderò cura di quella cosa esattamente come tutto il resto però oggi imparare dalle ferite per tonarsi significa anche questo non permettere più né a me né all'altro di farmi cadere nella trappola e molte persone accadono purtroppo e continuano andare dietro le provocazioni e poi ancora devono fare un lavoro pesante su se stessi per perdonare l'altro e perdonare se stessi perché abbiamo permesso magari di dire qualcosa di troppo e poi abbiamo sensi di colpo è un lavoro infinito è un lavoro infinito ma che ti assicuro che quando hai veramente elaborato quell'esperienza con la memoria di dolore che avevi dentro incapsulata ti posso assicurare che tu vedi quei passi noi siamo sempre abituati a guardare quello che ancora dobbiamo fare che non siamo ancora in grado di fare ma se voltiamo la testa ne abbiamo fatta di strada e allora a volte dirsi anche brava comunque il fatto della strada è giusto ce lo meritiamo vuol dire non far entrare nella propria vita qualcosa che ti potrebbe ferire affrontando la situazione con una certa dignità rispetto intelligenza e saggezza ok vuol dire secondo me amare se stesse perfetto non avrei saputo dirlo meglio perché è così perché se io non voglio sporcare il mio universo personale il mio mondo che ho creato con spazzatura che accetto e poi dopo devo trovare i mezzi per prendere questa spazzatura e portarla via attraverso un grande lavoro faticoso che non è fisico ma proprio emotivamente e non so spiritualmente che può essere anche abbastanza pesante magari meglio non far entrare in qualche modo inventare qualche metodo da poter bilanciare bene infatti tra bene e male tenendo indifferenza non deve mai essere perché quando una persona è indifferente vuol dire che proprio se ne freghista ne sta né qua né là secondo me è come un'ameba che è proprio senza una propria opinione qualcosa del proprio deve essere indifferenza fa più male che la rabbia odio eccetera eccetera però avere un proprio pensiero rispetto e valore per proprio universo per se stessi per non permettere che entrerà qualche emozione parassita che può rovinare l'armonia e l'equilibrio che tu hai creato con grande fatica assolutamente però potrebbe essere anche che noi prendendo cura ecologica del proprio universo dimentichiamo che l'ecologia vale comunque per tutto e allora non dobbiamo sporcare neanche i mondi delle altre persone perfetto un pensiero ecologico così non dobbiamo perdonare visto che non creiamo dei conflitti no? anche questo però questa è l'intenzione poi dobbiamo sapere che è possibile ferire gli altri anche se non lo vogliamo perché nel momento in cui noi siamo nel nostro universo nel nostro mondo abbiamo cura e rispetto per il nostro mondo e pensiamo di averlo per l'altro e sicuramente così dal nostro punto di vista ma l'interpretazione dell'altro come sta vivendo la relazione con noi per esempio non possiamo essere certi che la nostra intenzione arrivi pulita all'altro ecco perché in relazione è molto importante che quando l'altro ha una reazione noi permettiamo anche di non essere stati compresi possiamo chiedere all'altro possiamo permetterci di comprendere lo stato d'animo dell'altro e poi chiarire quando l'altro è calmo quindi come dire proprio perché ho rispetto del mondo dell'altro posso anche accettare di avermi toccato inadvertitamente una ferita o di essere stata altra intesa allora leggiamo quando le persone ci fanno del male forse è perché siamo noi gli artefici del nostro destino per esperienza posso dire che grazie a questi atteggiamenti contro la mia persona sono riuscito a cambiare la prospettiva e a capire la mia forza proprio come uno specchio mi sono visto e ho capito cosa volevo veramente bella cosa infatti parlando di specchi tutto è specchio tutto veramente e leggete poi nel libro di Maria Caterina questo capitolo bellissimo che parla di specchi e i seni una cosa bellissima molto bella molto bella lavorato proprio in modo tutto tuo perché ci sono diverse versioni di queste specchi però tu lo hai reso tua molto bello complimenti sicuramente poi buonasera buonasera ti capisco bene ma posso testimoniare che dopo un'ingiustizia subita capisci il perché e ringrazio che poi ti sei liberato da un peso come fai a capire cosa devi guardare e superare interessante guarda la ripetitività sia delle tue reazioni che delle situazioni e ovviamente insieme all'effetto emotivo che ti fa perché ovvio che se ripeti sempre cose belle non devi cambiarle quelle vanno bene così ma che ci sono cose ripetitive o situazioni che ti riportano ripetutamente a reagire contro l'altro contro te stesso contro il mondo contro rivani magari per qualche giorno un po' scombinata o scombinato quelli sono punti fragili da di cui prendersi cura già già come si chiama il libro di Maria Caterina si chiama io mi perdono però deve uscire a a breve a breve io entro ottobre assolutamente sono già in ritardo molto interessante guarda che la direzione mi piace tantissimo allora altro altro preso su sempre dal tuo libro una riflessione il rapporto con se stesse è fondamentale per te e ho preso dei appunti per farti la domanda e vieni vieni prima del rapporto con gli altri ma come si dialoga con se stesse affinché ci sia dialogo ci vogliono due io che si parlano tra di loro e devono parlare in un modo diverso per poter confrontarsi come spieghi questa dinamica parlo con me stesso ma chi parla con chi cosa quale parte parla con l'altro allora la separazione che vediamo fuori in realtà è anche dentro di noi noi non siamo un io e se no sarebbe facile vai solo in una direzione noi siamo in tante parti frammentate proprio per sperimentare nella vita terrena la separatività ci siamo separati anche all'interno di noi quindi abbiamo una mente tra l'altro divisa in un sacco di parti abbiamo una sensibilità un essere un carattere abbiamo un sacco di cose quindi dentro di noi possiamo sentire una parte arrabbiata una parte ferita triste una parte invece che ha paura possiamo sentire tante cose il segreto è intanto ascoltarle tutte senza sentire che una è il tutto è assoluta cioè a volte anche di fronte alla paura ci fermiamo come se fosse l'unica cosa che esiste e ci dimentichiamo che la paura la rabbia la tristezza sono solo parti che in quel momento parlano più forte magari delle altre a cui stiamo prestando più attenzione ma non sono le uniche allora iniziare a vedere cosa dentro di noi sta parlando sta chiacchierando quali sono i nostri lupi cosa dice il cuore ascoltarli è la prima cosa quindi intanto come dire incorniciare ogni cosa che viene detta da dentro di noi tutti questi io dopodiché la base del discernimento è proprio quello di tener conto di tutto e poi di andare ad attingere alla parte di luce che abbiamo dentro la parte legata ai valori legata a quello che mi farebbe esprimere chi sono nella mia energia sostenendo sostenendo con le mie risorse tutte le altre parti quindi detta così sembra una teoria messa in pratica per esempio noi siamo spesso divisi tra scusate il cane ogni tanto i nostri spettatori hanno notato il tuo cane non è mio tra l'altro è di una casa vicina quindi non posso farci nulla spesso diciamo lo faccio o non lo faccio e quella non è la soluzione se la mia energia è portata a fare qualcosa perché lì si può sentire realizzata allora la domanda deve essere come posso fare questa cosa sostenendo la paura la tristezza la rabbia tutto ciò che in questo momento mi sta urlando qualcosa e quindi le ascolto ascolto il bisogno che hanno e trovo le risorse per affrontare le cose sostenendo perciò praticamente tristezza rancore offesa e tante altre cose che abbiamo dentro possono essere considerate anche come delle identità che vivono dentro di noi con quali possiamo chiacchierare come una parte di noi ovviamente visto che lo stiamo vivendo però come con questa parte immaginando come fosse una persona la rabbia è una persona lo so qualcuno ha scritto che abbiamo mille pregi e difetti perciò come si può parlare con i difetti o diverse state d'anima così si può parlare con un talento magari assolutamente con il tuo perdono assolutamente viene da dire ecco quando si pensa si parla di pregi e difetti non esistono cose che sono positive in ogni circostanza con ogni persona e a tutte le età come non esistono i difetti che sono solo difetti cioè anche la rabbia la paura hanno dei messaggi evolutivi importanti la rabbia quando si parla di scala evolutiva la determinazione la motivazione il coraggio è comunque una una vibrazione alta della rabbia senza la rabbia non ci sarebbe cambiamento determinazione spinta quindi tutte le emozioni che troviamo hanno una buona intenzione di esistere dobbiamo solo saperle trasformare in qualcosa di bello nel tuo libro parlerai di come trasformarle vero? sai che mi sa che lo devo aggiungere? ma lo aggiungo io non ce l'ho fatto l'ho fatto ce l'ho pronto lo devo solo aggiungere ok hai ancora tempo vedi i nostri spettatori ti hanno portato qualche idea per il libro bello senti parlando della parte spirituale della tua vita ovviamente tutto è spirituale il lavoro che si fa anche come life coach comunque non puoi non mettere la tua anima ma conoscendo te come channeler perché lavori comunque con la guida e ricevi i messaggi della tua guida non è mai capitato di intervistare in un certo senso la tua guida cosa ne pensa lei dalla sua evoluzione spirituale del concetto del perdono non l'ho fatto direttamente però mi rendo conto grazie per questa cosa perché mi stai invitando a farlo e lo farò mi sono resa conto che in certe parti del libro magari te ne sei anche accorta ma in certe parti del libro davvero non mi sembrava di essere io a parlare così come mi capita con le persone con cui lavoro arriva un momento sempre in ogni sessione in cui io a un certo punto mi lascio attraversare e accadono cose sì quindi sì non lo faccio ma credo che nel libro abbia detto la sua sì è vero è vero senti avevi parlato anche di quella parte molto toccante particolare della tua vita riguarda la tua sorella scusa tocco il discorso perché l'hai scritto nel libro grazie è difficile quando perdiamo delle persone care nella nostra vita di perdonare se stessi perché non siamo riusciti ad essere vicini e non siamo riusciti ad impedire che questo è accaduto la seconda che non riusciamo perdonare non dico riusciamo ma in generale molte non riescono perdonare addirittura la morte stessa come un concetto in generale anche una cosa più globale molte non riescono a perdonare le persone coinvolte comunque in tutta questa situazione che le stavano vicino non riesco a perdonare me ma non perdono neanche voi non perdono neanche la morte perché sto nel dolore nel mio senso di colpa come hai lavorato questa cosa se è stata sì come succede a tanti soprattutto quando la morte è improvvisa poi nel mio caso specifico quella sera io l'ho scritto nel libro ma sia io che mia sorella eravamo in ospedale insieme a nostra madre che aveva appena subito un intervento al cervello e non era ancora svegli era ancora in coma io so che mia sorella stava attraversando un periodo difficile un problema in particolare e mi ha chiesto aiuto e in quel momento eravamo tutte molto di forza perché in una terapia intensiva c'era poco tempo per visitare mia madre per vederla anche attraverso un vetro tutte imbardate però c'era e quindi io frettolosamente gli ho detto aspetta parliamone dopo ti chiamo mentre sei in macchina parliamo e in realtà non abbiamo più parlato quindi per tanto tempo ho pensato avrei dovuto avrei dovuto mi sono perdonata nel momento in cui ho capito che non che non potevo saperlo e che comunque poi ho elaborato anche diversamente però come dire comunque c'è sempre il rimpianto di non aver dato quell'abbraccio quel bacio quando me l'ha chiesto quella parola questa è stata l'elaborazione più più forte anche perché io poi ho sentito che era successo qualcosa quindi la chiamavo e poi insomma mi hanno risposto direttamente i carabinieri quindi è stato anche abbastanza traumatico che dire ho elaborato poi anche di essermi ho visto poi di essermi poi perdonata anche il fatto di aver creduto di essere persa ho subito pensato come faccio senza di lei non posso farcela quindi c'è stato voluto tanto tempo prima che io sentisse di poter camminare senza la sua guida e ancora oggi ogni tanto mi capita di pensare sarebbe diverso se ci fosse lei se avessi lei a cui telefonare a cui chiedere e allora è anche stato grazie a questo che io ho recuperato delle cose che avevo da bambina e che non sapevo come usare e ho scelto di iniziare a usarle per trovare un nuovo modo di presenza di vicinanza hai detto una cosa importantissima e questo secondo me lo userò assolutamente anche durante le sedute mediane con delle persone che hanno subito un lutto perché hai detto che tu hai perdonato te stessa per o almeno se ho capito bene secondo me sì hai perdonato te stessa per il pensiero che tu non potevi o non volevi in un certo senso vivere senza di lei e ti sei perdonata per quel pensiero perché era contro l'unica cosa preziosa comunque che tu hai nella vita è la vita tua sì ho pensato di scaricarmi anche della sua vita dire io vivrò anche per te va bene questa è una cosa bellissima perché sai lavorando nella medianità il concetto di perdono io lo metto cioè in ogni seduta c'è sempre dappertutto in ogni seduta e c'è qualcuno che ha sensi di colpa e ancora è offeso tantissima cosa tantissima infatti integro molto e questo tema come il titolo anche è il tuo libro a me è molto molto vicino sia per la mia storia personale che anche per le storie che sento tutti i giorni da molte persone bello a me è servita tantissima questa intervista e spero anche agli altri persone è stata molto chiara è un tema non semplice secondo me scriverai anche un secondo libro perché è un tema infinito ma chissà spero di essere come dire di diventare sempre più brava anche a scrivere sì sì questo è senz'altro assolutamente oh com'è che è da voi il tempo è caldo? è caldo sì ci sono una terza di grado ormai sono trasferita in Dominicana ti fa invidiare da quel posto bellissimo con il caldo che avete adesso sì ci sono 30 gradi è una terra bellissima e mi auguro di potervi invitare a tutti appena il progetto sarà finito 30 gradi che ora sono da voi adesso perché non riesco mai a capire con vostro fuso orario sono le 5 del pomeriggio quasi noi andiamo a letto e tu vai non so a preparare a vedere il tramonto caspita fantastico Maria Caterina veramente io ti auguro di tutto il cuore di pubblicare al più presto possibile il tuo libro perché ormai io vedo che anche le persone non vedono l'ora di vederlo e tenerlo tra le braccia perché era una perla molto preziosa come sei tu come sei tu grazie grazie bene salutiamo così piano piano i nostri ospiti siete stati tanti e grazie mille che ci avete sostenuto perché è la prima volta che facevamo un'intervista di questo genere io sono proprio principianti nel fare intervista dovevo proprio prepararmi bene con delle domande e grazie a voi che mi avete fatto anche tantissime grazie a tutti grazie a te Slavi davvero un dono immenso davvero grazie va bene allora buonanotte a tutti vi ringrazio tantissimo ancora una volta buona vita a tutti quanti e buon perdono cin cin buonanotte a tutti grazie grazie mille alla prossima grazie